Grazie a Sestini, lei è entrata in Parlamento poco dopo che Luigi Luccherini aveva vinto le elezioni qui a Arezzo? Sì, è vero, fu un ingresso quasi in simultanea, erano passate un paio di settimane, sono passati più di vent'anni, il ricordo di quei giorni è il ricordo di una persona straordinaria che ha insegnato agli aretini ad amare la loro città, a capire che questa città aveva straordinarie potenzialità e ha insegnato che si poteva lavorare, si poteva produrre, ma si poteva anche valorizzare le bellezze che questa città aveva. Penso che gli avrebbe fatto piacere il testamento per la città di Arezzo, di un grande sindaco. Con l'aiuto di tutti si può fare grande una città, Arezzo merita l'impegno di ciascuno di noi. Mi ricordo Ade, il sindaco, quando lei lavorava a stretto contatto con lui? Un grande, un grande, non si risparmiava, sempre per e solo per la sua città. Fino a ieri le parlava della sua autobiografia? Ieri mattina ho incontrato Luigi e ho parlato a lungo con lui, insieme con Maria e sua moglie, sul suo libro. Il suo libro era l'ultima creatura e ciò che lui ha lasciato. Si preoccupava della correzione delle bozze, si preoccupava della lunghezza delle pagine. Mi ha chiesto quando si poteva presentarlo e eravamo rimasti d'accordo tra il 15 e il 30 di settembre. Dove? Al centro affari, ma è troppo grande, però c'è lo spazio giusto per il parcheggio. Era molto, molto lucido. Mi ha chiesto quando posso recuperare, era pieno. Voleva presentare questo libro e questo libro sarà un grande evento per la città di Arezzo. Vice sindaco, un ricordo di Luigi Luccherini. È un momento molto emozionante, siamo tutti legati al sindaco Luccherini. Ha rappresentato per noi l'inizio di una lunga storia di politica, di amministrazione e di amicizia personale. Quindi per noi è un momento personalmente molto difficile. Grazie a tutti.